Sappiamo bene quanto l'Ucraina attualmente sia in difficoltà, soprattutto dopo che il congresso ha bloccato i 60 miliardi di dollari promessi da Biden per inviare armamenti a Zelensky. La frustrazione è tanta, anche io sarei distrutto se venisse a sapere che il mio principale sostenitore dall'oggi al domani non c'è più. Tuttavia in questo scacchiere belligerante Zelensky sta facendo un grosso errore che rischia di pesare sulle teste di tutti noi. A cosa mi sto riferendo? Al fatto che nelle ultime settimane ha intensificato gli attacchi sulle raffinerie russe. Infatti Biden, già sotto pressione per le elezioni in arrivo, sta cominciando a perdere la pazienza e infatti ha invitato Kiev a smettere subito con questi attacchi per via di tutta una serie di conseguenze che vedremo tra poco. Comunque l'Ucraina sta applicando questa subdola strategia perché sta bene che non può eguagliare i russi sul campo. Quindi se è più debole militarmente parlando, che soluzioni le restano? Colpire pesantemente le arterie attraverso cui fluiscono i capitali che permettono allo Stato russo di tenere in vita l'economia di guerra. Tuttavia l'efficacia degli attacchi ucraini contro le raffinerie potrebbe diventare un problema per l'Ucraina stessa, o quantomeno per i suoi alleati che la sostengono. Poiché la Russia è uno dei maggiori produttori di petrolio al mondo, se le sue capacità produttive entrano in crisi, il prezzo del greggio è destinato a salire. Questo in realtà sta già avvenendo ed è per tale ragione che l'amministrazione Biden ha chiesto a Zelensky di fermare l'impiego di droni carichi di esplosivo che si schiantano contro le raffinerie, perché in gioco c'è anche il suo futuro alla Casa Bianca. Per farvi capire, guardate quanto è aumentato il Brent da inizio anno. Dai 76 dollari ci stiamo avvicinando pericolosamente verso la soglia dei 90 dollari. Parliamo di un aumento di circa il 10%. È chiaro che se la materia prima che fa girare l'economia aumenta di prezzo, automaticamente questo rialzo si ripercuote su tutti gli altri settori economici. I costi di importazione salgono e questo diventerebbe un grosso problema soprattutto per noi del UE, considerando che il nostro settore industriale già sta collassando. Quindi gli attacchi dell'Ucraina con droni potrebbero sì ridurre le entrate nelle casse russe, ma potrebbero ridurre anche quelle nelle nostre tasche, perché un'inflazione persistente accompagnata da alti tassi di interesse ci trascinerebbe direttamente nel dirupo. E a questo punto l'ipotesi di fornire corposi fondi a Zelensky si assottiglierebbe ancora di più. Attualmente le banche centrali sono molto sensibili. Sembra che siano pianificando i primi tagli al costo del denaro a partire da giugno, ma se dovessero accorgersi che l'inflazione fatica a raffreddarsi manterrebbero intatta la politica monetaria restrittiva, facendo soffrire ancora di più le nostre imprese. Ma quanto sono stati gravi i danni che gli ucraini hanno arrecato alle raffinerie russe finora e di conseguenza all'economia globale? Vediamo alcuni dati molto importanti. Secondo Bloomberg, che cita l'amministratore delegato del Gun War Group e la JP Morgan Chase, gli attacchi raffinerie russe hanno ridotto la capacità degli impianti di raffinazione di petrolio del paese di circa 600.000 barra 900.000 barili al giorno, ovvero tra il 10 e il 15% del totale. Secondo alcuni analisti, gli attacchi ucraini potrebbero aggiungere circa 4 dollari al barile ai prezzi globali del petrolio. È chiaro che Joe Biden, a pochi mesi di distanza dalle elezioni, è piuttosto preoccupato. E ora ti dico perché. La Russia è uno dei maggiori esportatori di benzina al mondo. Nel 2023, su 44 milioni di tonnellate di benzina prodotte, ne esportate circa 5.8 milioni, circa il 13% del totale. Quindi la Russia, essendo uno dei maggiori esportatori di benzina, ha un ruolo significativo nel mercato energetico globale. Pertanto, qualsiasi interruzione della sua produzione di benzina può avere ripercussioni significative sui prezzi. Difatti questo è proprio ciò che sta accadendo, in quanto i danni causati da droni ucraini stanno riducendo le capacità produttive della Russia. I prezzi della benzina negli States stanno salendo di nuovo alle stelle. Pensate che dall'inizio degli attacchi alle raffinerie si è registrato un balzo del più 40%. E i cittadini americani se ne stanno accorgendo nervosamente. Vi ricordo che negli States il 70% dei veicoli è alimentato a benzina. Comunque, io una cosa di cui non mi capacito è come può la Fed pensare di tagliare i tassi per tre volte quest'anno ed esserne così sicura, quando l'inflazione core è ancora al 3.8%. E soprattutto ci sono innumerevoli incertezze sul mercato petrolifero. Sinceramente non lo so, però vedremo sul da farsi. Comunque, l'amministrazione Biden, in vista delle elezioni di novembre, non è solo preoccupata per la persistente inflazione che rischia di rialzare la testa, ma è preoccupata anche per possibili ritorsioni russe che potrebbero danneggiare certe strutture, come per esempio i gasdotti verso l'Europa, e aumentare così ulteriormente i prezzi globali d'energia. Nonostante le ansie dei leader europei, Zelensky si è intestardito sul fatto che le raffinerie russe resteranno obiettivi legittimi. Le notizie sulle pressioni della Casa Bianca che ha invitato Kiev a cessare gli attacchi sono state accolte con furia nel paese, cioè in Ucraina, dal quale sono partite accuse di ipocrisia. Per come la vedo io ragazzi, Zelensky sta governando in maniera sbagliata la situazione. È sicuramente frustrato che né dagli USA né dall'Europa arrivano fondi sostanziosi per aiutare il suo esercito, però continuando a colpire le infrastrutture russe in profondità, non farà altro che soffocare il desiderio dei leader occidentali di aiutarlo se la crisi energetica dovesse infuriare nuovamente. Ora ragazzi, dato che siamo in tema petrolio russo, vi devo riportare un'altra notizia prima di salutarci. Allora, per oltre due anni Cina e India hanno acquistato una marea di greggio russo, in quanto Putin ha deviato i flussi dall'Europa verso i due giganti asiatici, che ora rappresentano circa il 90% delle esportazioni del Cremlino. Tuttavia ora l'India ha cambiato marcia ed improvvisamente rifiuta il petrolio russo. Più in particolare i raffinatori indiani si stanno rifiutando di accettare il greggio consegnato dalle petroliere di Sovconflot, che sarebbe una compagnia di navigazione russa controllata dallo Stato. Ma per quale ragione sta succedendo? Beh, per via delle sanzioni secondarie annunciate da Joe Biden, che mirano a colpire non solo la Russia, ma anche i paesi che mantengono legami economici con il Cremlino. Le sanzioni secondarie possono avere un impatto significativo sull'economia di un paese, limitando la sua capacità di fare affari con entità statunitensi e potenzialmente isolandolo dai mercati finanziari globali. Per cui se gli states decidessero di sanzionare la raffineria indiana, l'economia indiana subirebbe gravi ripercussioni. Per questa ragione l'India ha deciso di fare un passo indietro e prevenire potenziali colpi inferti contro di essa. Infatti in questo grafico possiamo osservare come le barre nere, che rappresentano le petroliere di Sovconflot verso l'India, si sono drasticamente ridotte a marzo 2024. Ma per caso queste decisioni intraprese dal partner indiano faranno tremare la Russia? Secondo me non la faranno tremare affatto, perché ci saranno sempre degli sbocchi per il petrolio russo. È impossibile sanzionare l'intera flotta ombra che trasporta il petrolio russo. Infatti queste navi utilizzano una serie di tattiche e di escamotage per evitare le sanzioni, tra cui trasferimento di petrolio da una nave a nave in acque internazionali non sorvegliate, oppure il cambio della bandiera di registrazione della nave. Comunque in tutto questo contesto ingarbugliato, il vincitore rimane ancora una volta la Cina. Se l'India continuerà a diminuire le importazioni di petrolio russo, queste fluiranno inevitabilmente verso la Cina, la quale le comprerà con un soccoso sconto. Non è un caso infatti se questo mese il Dragone ha stabilito un nuovo record per le importazioni di greggio russo. E questo è tutto amici, fatemi sapere nei commenti se anche voi come me siete d'accordo sulle mostre di Zelensky. Una buona giornata, a presto!